Una canzone che abbiamo cantato tante volte Perché ci riempie il cuore, perché è bizzarra, perché è stravagante un po' come era anche Moira Si chiama Il cielo è sempre più blu Ed a cantarla è il nipote di Rino Gaetano Perché pensate un po' lui avrebbe compiuto 70 anni domani Ascoltiamola Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore I sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria Chi ama la zia, chi fa portapia Chi trova scontato, chi come ha trovato Ma il cielo è sempre più blu Ma il cielo è sempre più blu Il cielo è sempre più blu Alessandro Gaetano, grazie davvero di essere con noi Puoi venire qui direttamente a sederti accanto a noi Portando anche il cappello che ci ricorda tanto tuo zio Guarda, cantavamo senza ritegno Senza ritegno, brava Io sono dormito poco stanotte perché sono un po' afasica Mi mancano un po' le parole, però va bene Senza ritegno Ma il cielo è sempre... Me la fai ricantare? Ma il cielo è sempre più blu Ma il cielo è sempre più blu Ma il cielo è sempre più blu Rino Gaetano, lo vediamo raccontato da Carina Marino Sento che in futuro le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni Una profezia le parole di Rino Gaetano Il geniale cantautore italiano che si ispirava al suo sud Con il ritornello Chi suda il salario, chi sogna la gloria Nel famoso brano Ma il cielo è sempre più blu Chi suda il salario Chi ama l'amore Blu come il suo mare Nato a Crotone il 29 ottobre 1951 Si trasferisce a Roma a soli dieci anni Con il padre raggiunge un compromesso Avrebbe provato ad entrare nel mondo della musica O in caso contrario avrebbe lavorato in banca Non si è mai arreso Rino Neanche con chi, come diceva lui Voleva mettergli il bavaglio E con ingresso libero, titolo del suo primo album Si spalancarono le porte dei suoi sogni Dissacratore, innovatore, spirito libero Sceglie la strada del paradosso Quando nel 1978 Arrivato terzo a Sanremo con Gianna Si presenta vestito in fracca Maglietta a righe E l'immancabile cilindro in testa Scanna Gianna, Gianna prometteva Pareti e fiumi Un artista che aveva il coraggio delle proprie idee Come quando nel brano non te regga più Fece nomi e cognomi In un tempo in cui fare nome e cognome Era molto difficile Ma per Rino, che amava provocare Era la canzone più leggera che avesse mai fatto L'anticonformista che prendeva appunti Sui tovaglioli al ristorante L'antitaliano a modo suo Scompare il giorno in cui si festeggia l'Italia Il 2 giugno 1981 Domani sarebbe stato il suo compleanno E ci auguriamo che per scacciare le paure del virus Come all'inizio della pandemia Tutti possono cantare ancora una volta Ma il cielo è sempre più blu La potenza di una canzone E di questo cappello Che era il suo, no Alessandro? Questo cappello ricorda la trasmissione Dove andò da Pippo Baudo E lui era seduto su una panchina E quindi raccontava un pochino Le sue storie I suoi viaggi che ha fatto in Messico Dove ha preso anche questo cappello Ma te l'ha regalato lui Tu sei il figlio della sorella? No, no, no Questo è in casa È uno dei cimeri Ma tu quando Rino, ahimè Ci ha lasciato giovanissimo In un incidente E avevi dieci anni Sì Che cosa ricordi di tuo zio? Ha fatto in tempo a trasmetterti l'amore della musica Che... Com'era come zio? Lui ci aveva regalato a tutte e tre Un mangianastri Perché noi eravamo, diciamo Ovviamente abbiamo tre anni di differenza come fratelli E lui usava fare i regali a tutte e tre in contemporanea Perché magari uno poi rimaneva male Carino Lo so E quindi avevamo o la macchina fotografica O il registratore Quindi da piccoli eravamo già abituati ad ascoltare tanta musica Io poi me la sono portata negli anni E l'ascolto prima di dormire e per svegliarmi Ma cantava a casa? Sì Assolutamente Eh, pensa che bello avere Rino Gaetano che ti canta a casa Cioè dai, è il massimo Peraltro è uno zio generoso quindi Perché... Sì, sì, sì Poi gli piaceva fare foto Magari ci metteva, che ne so, la carta dell'uovo di Pasqua dietro Per fare tipo una scenografia e ci faceva delle foto Era... Era molto inventiva Creativo anche nelle mura domestiche Era un creativo assoluto Nel senso che poi nel Rino Gaetano si riconosce anche una grande teatralità Nel senso che oltre alle meraviglie che ha scritto al poeta che è stato Però ogni volta che si rappresenta, si rappresenta in maniera teatrale Ricordiamo la tuba, ricordiamo i colori, ricordiamo la maglia, ricordiamo le bretelle Insomma, ci ha lasciato anche... Con un certo candore anche nello sguardo, vero? Eh sì, bambinesco, fanciullesco Però in ogni suo testo poi c'è un aggancio, c'è un volo, c'è una poesia Anche involontario, lui stesso diceva che era volontario, non voleva essere catalogato, ingambiano, non voleva essere musica politica Cercava in qualche modo di mettere in scena un po' di teatro nelle sue esibizioni Infatti, che ne so, da Pippo Baudo portò appunto la panchina spiegando che era una cosa estiva Perché nessuno di loro va in vacanza come artista e quindi diceva che mi sono portato da una piccola spiaggia privata Magari invece da Corrado portava la biciclettina Oppure si era messo la parrucca con la muta facendo finta che poi doveva tagliarsi i capelli Dal cilindro di Renato Zero a Sanremo e via via Che poi non voleva cantare però Io so che lui aveva a comporre e ha composto per Nicola di Pari No, ma infatti la prima volta, la prima sua esibizione Volevamo andare subito a una persona che infatti canta al suo posto e mi aveva detto Guarda, non si fa, non va bene Con dei testi di canzoni peraltro un po' anarchici, stravaganti Guarda, sentiamo che non ti regga più è quella classica frase che chiunque di noi ha pronunciato almeno una volta nella vita Anche più di una Almeno una Una No, ma non si fa, non mi hanno parlato Sirelli, Tripla, Causio, che passa a Tartelli, Musiele, Antognoni, Zaccarelli, Dereghe più, Gianni Prera, Dereghe più, Berzo, Dereghe più, Monzo Panatta, Rivera d'Ambrosio, Laudateni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobiltone Eminenza, Monsignore, Vossi Asceri, Mon Amour, Dereghe più. Apparente leggerezza e precisione chirurgica nel individuare un'emozione autentica, collettiva, di una intera generazione, che è ancora valida oggi, perché questi testi non solo non invecchiano, sono sempre più freschi, sempre più vivi, quindi era in anticipo, era un artista che è grande, perché stava vent'anni avanti, forse non era neanche cosciente. Beh, non a caso, ancora oggi è amatissimo, i giovani lo frequentano, vive... Beh, l'autonomia di Maurizio Costanzo che lo invita, perché Notterreghe più era anche riferito a lui, e alla stessa Susanna Agnieri, che invece in maniera giocosa hanno partecipato a questa esibizione. Oggi chissà che ci metteremo in questo Notterreghe più, ce ne sono tantissimi, diciamo, anche l'Interam, e adesso una carrabbata, perché c'è Sergio Camariere collegato con noi, ciao Sergio. Perché carrabbata? Perché Sergio ha scoperto da... Quando è che l'hai scoperto? Bene, intanto saluto a Giglione. Ciao Sergio, ciao, che bello vederti e sentirti. Come stai? Sergio, non ti sento, ti voglio bene ma non ti sento. Comunque la notizia è questa, la notizia è questa, intanto la do io, ma speriamo di sistemare l'audio, che 15 anni dopo la morte di Rino, Sergio ha scoperto che era parente. Perché? Correggetemi se sbaglio, tuo nonno praticamente ha avuto come figlia illegittima la mamma di Rino, giusto? Esattamente. Quindi voi eravate cugini di secondo grado? Certo. Come hai fatto a scoprirlo? C'è un Python Place, di dove siete voi, di Crotone, no? Crotone, sì, sì. Guarda, la storia verrà raccontata anche nel mio prossimo libro, che si intitolerà Sono sempre scritto, edito da Rizzo. Non ti sento, Sergio. Non mi sentite? È disturbatissimo. Vai veloce, così ci dai la notizia, perché è veramente molto curiosa. Sono tante le notizie, intanto che i parenti miei, i miei figli più grandi, già conoscevano questa storia, perché mio nonno era soprannominato seminator. Oddio! Lui era proprietario di Rizzo e aveva degli incontri extraponiugati evidentemente. Signore un po' vivace. Maria, la mamma di Rizzo, è nata da uno di questi incontri. E chi te l'ha comunicata questa notizia? Beh, in famiglia già lo sapevamo. Poi, ciao Alessandro, ti voglio dare un saluto. Con Alessandro ci siamo incontrati nel lontano 96, io riprendevo tutto con la mia telecamera e quindi da quell'incontro è nato il contatto con Maria. Sono stato a casa di Maria con la mia telecamera e ho ripreso dei momenti molto emozionanti per la mia vita, per la mia storia. Cioè, perché ho appreso che era reale questa storia, ecco, che in effetti io e Rino Chetano abbiamo lo stesso nome. Alessandro me lo sapevi perché lo dici con i tuoi baci. Sì, Alessandro lo sapeva. Nel senso, allora, è successo così, posso raccontarlo anch'io brevemente. Preventi incontrammo Sergio a questo albergo dove stavamo, perché stavamo eseguendo un mini concerto. Poi si aggiunse Sergio e fa, ah ma anche voi fate Rino Chetano. Ho detto, guarda, in realtà era lontano 90 senso, ma i tempi non sospetti. E poi da lì io ho detto, ma sai, ho conosciuto mia nonna, ho conosciuto una persona particolare, perché vedevo i suoi video di questo pianoforte sul furgone mentre lui viaggiava e mi era rimasto impresso. Ho detto, ho conosciuto questo Sergio Cammeriere. Mia nonna mi dice, ma sai che questo Cammeriere mi sa che è il nostro parente? Io ho detto, Sergio, guarda, devi incontrare mia nonna perché qui c'è qualcosa che ti deve dire. Quindi tua nonna era colei che aveva avuto un liaison con suo nonno? Ah, e lei te l'ha confessato? No, no, no. No, la figlia, non ci ho capito bene. La figlia è illegittima, fuori dal matrimonio. No, no, nessuna confessione. Credo, eh. Nessuna confessione. Fantastico. Vabbè, c'era stata una bisnonna, quindi, che aveva fatto, per la quale, insomma, fidanzata, diciamo così, col nonno di Sergio. Va bene, dai, mi sono perso. Senti, il cappello è meraviglioso, Sergio. Ma a te piaceva Rino Chetano prima? Ma me lo posso infilare? Non ti offendi? No, no, no. Sa tabbia Rino? No. Chiediamo perdono? Dai. No, no, no. A te piaceva? Sta anche bene. Certo, ma ci sono state poi mille occasioni per obbligare Rino Gaetano. Ci sono stati tanti festival, c'era il famoso premio Rino Gaetano. E sai, tutte le volte mia cugina, Anna Gaetano, mamma di Alessandro, tutte le volte che c'era un evento importante mi portava il suo cilindro, che guarda caso è la mia stessa misura, mi sta a tennerlo. Diciamo DNA, buonsangue non mente, vi faccio vedere questo filmato che è un estratto da Contessa Ro, bellissimo video, che andrà a Canna, parteciperà agli Academy Award e ha vinto 12 festival. Vediamo, video di Sergio. Io ti troverò Ovunque in ogni momento Ovunque tu sarai Io con te sarò Grazie Sergio, video bellissimo e musica come sempre, quelle di Sergio, davvero toccante, davvero emozionante. Mi unisco Bello, bello Ci uniamo tutti Alessandro, dai, cantiamo insieme un'ultimissima cosa, io non mi tolgo più il cappello, ovviamente, andiamo avanti. Lei sfogliava i suoi ricordi Le sue stantane, i suoi tabù Le sue madonne, i suoi rosari e mille mari E la 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 I suoi vestiti Di linea seta Le calze a rete Marlene e Charlotte E dopo giugno Il gran conflitto E poi l'Egitto E poi l'Egitto È un'altra età Marce spastiche E federali Sotto i fanali L'Oscurità E poi ritorno In un paese diviso Più nero nel viso Più rosso d'amore Aida Come sei bella Aida Come sei bella Bravo Aida, l'Italia, la musica Le donne Grazie Alessandro, tu Grazie Rino, sempre Il tuo percorso musicale Beh, io faccio anche musica strumentale Suono un po' il basso Un po' la chitarra elettrica L'acustica Il pianoforte Quello che capita Non come Sergio, ovviamente Il piano Guarda Sergio che ride dal suo salotto Faccio musica strumentale, sì Grazie, grazie Grazie davvero per essere stati con noi E domani Quando vi svegliate Ricordatevi che era il compleanno Di un uomo che ci ha fatto Tanto Approfondire le nostre emozioni E che grazie alle sue canzoni Abbiamo riso E abbiamo Forse dal volto Diciamo anche un po' commossi E quindi Ricordiamolo Mentre oggi Diciamo anche un po' commossi Diciamo un po' commossi